Alcune cose che ha detto il segretario nei miei confronti, più che nei confronti del mio intervento e anche per precisare, fare una piccola aggiunta perché mi sono dimenticata quando ho trattato di un argomento di trattarlo fino in fondo. Allora, la prima precisazione rispetto a quello che mi ha detto il segretario relatore, la seguente, cioè io ho precisato che la firma è stata posta dal segretario e non dal governo semplicemente perché lei aveva detto che l'accordo era stato firmato dal governo. Tutto qui so benissimo che ci sono i mandati o le ratifiche successive da parte del congresso di Stato con tanto di delibere, quindi non c'è bisogno di fare, mi meraviglio, che uno che è stato segretario degli interni non lo sappia. Lo so benissimo, era una precisazione riguardo a un'affermazione sua che invece lasciava intendere a chi ci ascolta, perché penso che i consiglieri lo avessero visto tutti, che è una firma di tipo ministeriale. In realtà lei ha firmato come mandatario, sebbene nella precedente legislatura questa materia fosse seguita addirittura da una delegazione di governo, tant'è vero che abbiamo istruito la problematica insieme ai segretari della delegazione del pubblico impiego, preposti alle trattative per il pubblico impiego. Quindi la mia precisazione riguardo a questo appunto è molto tranquilla. Invece alla critica che lei mi ha fatto, non tanto per l'intervento ma per le cose che presume che io pensi, devo rispondere nel modo seguente e cerco di essere molto misurata. Lei dice, il consigliere Valeria Ciavatta dice certe cose perché ce l'ha con le lettere che arrivavano a tribuna contro la stabilizzazione, gliele faccio vedere tutte. No, lei deve esprimersi in modo corretto, lei non deve attribuire ad altri pensieri che ritiene siano tali, perché io queste cose non le ho dette e non le penso, perché io invece me la sono presa, diciamo così, e non ce l'ho a morte, questa espressione è tremenda, me la sono presa, diciamo così, con lei per quello che lei ha detto stamattina riguardo a questioni che lei nella passata legislatura ha trattato in maniera completamente diversa, come opinion leader, come giornalista, diciamo così, ma non tanto perché lei ha diritto come gli altri alle sue opinioni, chiunque ha diritto alle proprie opinioni, ma ho precisato, allora si vede il pregiudizio, no? Perché io ho precisato che una cosa è la notizia e una cosa è il commento. Dopodiché potevo aggiungere tanti altri esempi che non ho fatto, di attacchi ingiustificati che lei personalmente ha fatto, senza verificare le notizie, senza chiedere la voce dell'altra parte, e nel caso di rettifiche, di richieste di pubblicazione di rettifiche, utilizzando anche le rettifiche per massacrare l'argomento e indirettamente quindi titolare del di Castero. Tutto qui. Invece volevo aggiungere una cosa al mio ragionamento che non ho fatto, non ho dimenticato questa mattina, quando si parla braccio si rischia di fare così. Quando io ho parlato della legato F, per dire che è un regime normativo speciale rispetto a quello dei dipendenti pubblici, ho fatto il parallelo con le stabilizzazioni, per cui in quella sede si era trattato di chi aveva i requisiti sulla pianta organica, e quindi questo non era il caso, così come altri esempi che ho fatto. Volevo aggiungere una cosa che lei ha, diciamo così, sfiorato, ma anche lei non è andato fino in fondo nella sua valutazione. Lei ha detto, e io concordo, che praticamente sono cambiate le situazioni, anche rispetto a quando la legato F è stato creato, perché adesso non sono più, la prevalenza degli insegnanti di religione è fatta di laici. Allora, questo non deve essere considerato, sono convinto che lei non volesse dire se sono laici, sono più distaccati, se invece sono religiosi, non lo sono. Non credo che lei volesse dire questo, quindi io aggiungo, penso che lei volesse dire, ma anche io mi sono dimenticata di dirlo, che era stato creato la legato F, proprio perché si trattava di parroci o di sacerdoti che esercitavano la loro funzione in territorio, erano loro a tenere l'ora di religione o comunque la cattedra di religione e quindi avevano altre fonti di retribuzione e altri ruoli che non si sarebbero potuti rendere coerenti in quel momento con una situazione, una posizione di organico, come per un dipendente il quale percepisce, ovviamente deve percepire solo quella fonte di reddito che è lo stipendio che gli viene dato dallo Stato. Evidentemente con il passare degli anni questo tipo di previsione, probabilmente insomma sono d'accordo se l'avete già pensato, è una previsione che va forse riveduta completamente, perché io ribadisco, siamo per la parità di trattamento fra i dipendenti, fra gli insegnanti e quindi approviamo questo accordo perché vengono introdotti istituti soprattutto, io parlo di quelli normativi e probabilmente sarebbe bene che questa parità si realizzasse a tutto tondo, quindi prevedendo forse, non so, adesso queste sono valutazioni che sono di competenza della Segreteria dell'Istruzione, non certo del Consiglio in sé o di un'altra Segreteria di Stato, prevedendo forme diverse e forse la totale parità, perché questa distinzione tra chi è nell'allegato F e chi invece non c'è, forse adesso non si giustifica più, secondo quei motivi giustificativi invece che c'erano in passato quando questo strumento è stato adottato. Tanto è vero che nell'allegato F, se ricordate, c'era anche l'insegnante di diritto, proprio perché l'insegnante di diritto era comunque in quel momento un magistrato o un libero professionista che veniva assunto, diciamo così, o veniva incaricato di fare anche le lezioni o veniva assunto a convenzione, nel caso del professionista, mentre oggi anche l'insegnante di diritto è un insegnante come tutti gli altri. Quindi, questo per dire che oltre alle riflessioni di carattere culturale che lei ha apprezzato tanto e che per noi sono assolutamente fondamentali, c'è anche una questione di tipo organizzativo e di rapporto di lavoro che va comunque affrontata. Mentre sul piano di carattere più generale io vorrei ricordare i consiglieri che hanno criticato questo trattamento in quanto si tratta dell'insegnamento della lingua di religione, perché il nostro Paese ha uno spessore, diciamo pure, culturale, identitario ed anche istituzionale, nel quale non si può ignorare che siano presenti elementi anche provenienti dalla cultura cattolica, religiosa e cattolica. Cioè, non si può dire, siccome lo Stato deve essere laico, ignora assolutamente questo dato culturale ed identitario, perché allora questa non è laicità ma è ideologia, è l'esatto contrario, stamattina ho parlato della laicità o nel senso ovviamente di rispettare assolutamente quello che viene portato nella nostra società anche da un certo tipo di cultura e di impegno che è assolutamente di grande valore. Cosa, ad esempio, che l'Europa non è riuscita a fare quando ha cercato di redigere una Costituzione che comprendesse anche dei valori, se ci ricordiamo oggi che si parla dell'adesione o meno all'Unione Europea. Pertanto vorrei concludere dicendo che chiedo al Segretario di distinguere gli aspetti di natura personale che io ho introdotto ma ho anche giustificato ed argomentato con fatti concreti, da questioni invece inerenti l'intervento che ho fatto, anche a nome di Alleanza Popolare, a sostegno della ratifica dell'accordo. Consigliere Mimma Zavoli